Proseguono i bombardamenti su misurata da parte delle truppe fedeli a Gheddafi. Secondo un portavoce delle forze ribelli, gli attacchi avrebbero causato almeno 5 morti e una ventina di feriti. Da un mese e mezzo la città, a 200 km a est della capitale Tripoli, è sotto assedio. In aiuto della popolazione civile, una organizzazione non governativa turca sta organizzando l'invio di una nave carica di generi di prima necessità. Oltre che sul terreno, la situazione è difficile anche sul piano politico. Al presidente sudafricano Zuma, Gheddafi si è detto disponibile ad accettare la roadmap predisposta dalla delegazione dell'Unione Africana. Tuttavia, questo non basta mettere fine al conflitto. I ribelli infatti alzano il tiro e dopo l'ultimo incontro con la delegazione dei migliatori hanno respinto la proposta. Inaccettabile, dicono, perché non prevede l'uscita di scena di Gheddafi e pretende di riformare un sistema che dovrebbe essere invece completamente rimosso.